Ma si vena stasera, tu non faccia scema, e si dici ma tu... Ciro, che stai facendo? Sì, carini. Oh, grazie. Guaghiu, è successo un fatto... È successo un fatto ingresciere. Che è successo? Un fatto ingresciere. Al mio nemico acerrimo, Salvatore Conte, detto fastidio steghe te. Gli hanno sottratto il bombolone elettronico. Che è successo, Salvatore? La verità è che ci ha lasciato a Napoli una banda di scema. Quando i giovani ne mancano il bombolone in campo. Hai, tu papi? Che ci vuole un maggior controllo sulle piazze di spaccio. Non c'è la domanda? Ah no, a chiedere? No. Stacazio! 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 Ciao ragazzi, siamo Gigi in Rosso. E vi siamo molto vicini. Sappiamo benissimo che il vostro maestro, o meglio, Francesco, ha lasciato un vuoto immenso. Noi ne parliamo con cognizione di causa perché, molti di voi sanno, anche noi abbiamo perso una persona tanto, tanto cara. Quindi vi siamo molto vicini. Vi mandiamo un abbraccio grandissimo. Siate forti. e viva Francesco che è sempre con voi ciao